I più illuminati, diciamo così, li tengono aperti, altri hanno addirittura creato dei varchi pedonali che permettono il passaggio solo delle persone. La maggior parte però continua a sbarrare gli accessi al mare, che a Trani è pulito sì, ma è impossibile da raggiungere, a meno di non rivolgersi ai lidi balneari attrezzati o a strutture ormai dismesse e pericolose, quando addirittura a fare il bagno dove non si può, nei tratti dove la costa è a rischio crollo, o addirittura a pochi metri dallo scarico del depuratore cittadino. Problema vecchio e mai risolto, cercare qui il classico posto al sole diventa difficile se non impossibile e così con le sbarre abbassate o parcheggi dei lidi privatizzati c'è chi è costretto a camminare sulla statale o a fare percorsi alternativi e tortuosi. Se succede qualche cosa qui, che mio marito non sta bene, come fa a passare l'ambulanza? Domenica è caduta un bambino con un signore sugli scogli, si sono fatti male, poi avevano dato l'ambulanza e mi ha avuto più difficoltà, dato l'ambulanza perché la strada lì era praticamente chiusa. Le inchieste recenti dalla magistratura sono state archiviate, ma in nulla di penalmente rilevante è stato accertato. Il comitato bene comune, che lo scorso 19 luglio aveva manifestato con un corteo per le vie della città, ci riprova e con un esposto alla magistratura chiede di rendere il mare fruibile, così come previsto dal piano urbanistico generale lungo i 16 chilometri di costa. Uno di questi suggerivano tempo fa le associazioni ambientaliste potrebbe essere l'area di una struttura di proprietà della provincia, costata milioni di euro, ma è entrata in funzione e adesso ridotta ad un rudere, inutilizzato e inutilizzabile.